eccoci qui ho deciso di fare una live che si fa ma la svelta tra l'altro c'è anche un video della curva oggi un freddo le madonna mi si è letteralmente incancrinita una gamba infatti a stento poteva camminare però andiamo con ordine gubio tenana che finisce 1 a 1 bellissima partita mi avviso forse con un po di turcinismo in avanti e anche nell'ultimo passaggio finale forse potevamo anche vincerla onestamente sta partita però andiamo con ordine leggo intanto le azioni derby serale di noi tra gubio tenana il mister calderì si conferma il 4-2-3-1 con marchegiani in porta difesa 4 con tofanari specie schiaroli aeroporto centrocampo a2 con malaccari davì linea di trequartisti con del silvestro casiraghi e cattaneo di punta il centroavanti chinellata la cronaca altezza al primo al punto subito gubio pericoloso tanto porco cacchio si è aperto un coso del silvestro va via sulla destra e cross in aria dove casiraghi compie un gesto tecnico importante e rovesciata al volo il destro calcia in porta con la palla che si stampa clamorosamente sulla traversa al quarto invece è frediani che via sulla sinistra e cross in aria da destra sopraggiunge al rimorchio dei fenni che calcia in diagonale di destro con marchegiani che salva in dei tempi in tuffo al quattattiesimo il cubio va in vantaggio casiraghi pennella una punizione in aria con una specie che anticipa tutta la difesa neroverdi e di testa schiaccia rete con la palla che infila l'annarilli in tuffo al ventidiesimo travesse le difende in aria da destra pobega inconna le testa ma marchegiani sventa sventa in tuffo abbrancando la sfera sulla linea di porta al ventidiesimo pericolo in aria rosso-blu cross da destra le difende colpe le testa rimane lungo colpisce la base del palo tra le respindasi un tiro fulmino di pobega ma in extremis e a specie salva tutto tuffandosi con il corpo sulla linea di porta e respigna al quattattiesimo arriva il pareggio dei tennani corre sulla sinistra procediani che rimette in aria dove giunge il neon entrato bifurco che caccia di destra in porta la palla si inserisce a caffè di palo complice una leggera di aviazione di Cattano la ripresa si arriva al ventiquattiesimo per vedere un tiro nello specchio quando pobega cerca la concussione di destra dal limite paraterra marchegiani derby in parità queste sono le azioni più salenti diciamo che alla fine forse è un pareggio giusto ecco perché ce ne sono stati diversi errori soprattutto dalla parte della tennana delle volte sembrava davvero che il senazioni onestamente per chi non sapesse il senazioni di corso è il leggo in pratica torneo del leggo lanci lunghe alla viva al parroco mamma mia si vede che non davvero davvero in difficoltà onestamente però diciamo che con un pizzico di Tignan più sta partita si poteva benissimamente vincere onestamente però vabbè quando non si vince come dico sempre l'importante è non perdere adesso ci ritroviamo se non questa classifica aggiornata a 33 punti forse 34 boh lo so sarà una giornata nostra classifica comunque l'importante oggi è da non perdere ci saranno sconti diretti e quelli bisognerà vincere perché bisogna andarsene via da sti play out che siamo a 4-5 punti e niente è stata un bellissima partita grandissimi tifosi del Gubbio oggi davvero un attimo in cornice di pubblico come non se ne vedeva da parecchio tempo fosse sempre così l'Australia sarebbe uno spettacolo peccato per il tempo che ha rotto leggermente il cazzo quando arriva la domenica o lunedì quando si gioca insomma aspetta sempre il momento giusto per rompi i coglioni onestamente parlando ho preso una marea di acqua ma vabbè e poi da questo c'è nient'altro di migliori in campo secondo me ha fatto una bella partita anche Casiraghi e specie ha segnato anche forse oggi si è sentita un po' la mancanza dei piccini che con il suo fisico oggi poteva magari tenere qualche azione di più non mi è piaciuto particolarmente chi ne ha lato ma alla fine c'è stanca perché c'è di architeto lì mamma mia perché non sapesse l'ex Lazio mamma mia l'arbitraggio insomma c'è qualche dubbio l'ammunizione l'hanno detto l'hanno ammoniti Povega, Battista angoli 3 a 3 recupero 1 a prima tempo 3 a seconda tempo secondo me anche sul recupero ce n'erano molti molti di più e niente migliori in campo anche Casiraghi ho sentito un commento a fine partita da mani in te gli orecchi proprio da tapparsi gli orecchi e i manelli tappati che ha detto Casiraghi è scarso per me il Casiraghi è uno dei più forti della rosa che c'erano invece pensate se Casiraghi è scarso ma se la crede calcio non hai capito poco onestamente poi ho visto che la Roma ha vinto che mi avevo detto che seguivo tramite le croniche tutto il mercato non ho seguito proprio benissimo ho visto solo il risultato poi l'importante è che mi ho vinto 2 a 1 ho visto che hanno espulso Lorenzi però non so se c'era o no dopo ho visto che ho letto anche del VAR che c'è stato diverse volte al VAR e ho toccato a vedere la partita non ho visto quindi non so niente solo il risultato ho visto qualcosa ma bene la vittoria quindi grande Schick grande Scheraghi che hanno segnato e niente questo era tutto per oggi appunto alla prossima sempre forse grazie a tutti